Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B. per raccontarvi un'altra incredibile storia, curiosa e strana. Diciamolo subito, però, questa è una brutta storia, perché di storie brutte le abbiamo già raccontate, ma in qualche modo, in fondo, un lieto fine ce l'avevano, anche se erano storie tristi o che facevano paura. Insomma, alla fine c'era sempre modo di scherzarci su. Qui invece è più difficile, e non solo perché un lieto fine non c'è. L'ha raccontata questa storia a Matteo Marani in un bel libro, di cui poi citeremo il titolo, ma non ora. Eppure questa è una storia che parte bene, perché è una storia di sport, una storia di calcio e di grande calcio, perché questa è la storia di Arpad Weiz, il più grande allenatore del mondo. 15 giugno 1930, campo internazionale di Via Goldoni, Milano, lo stadio in cui gioca l'Inter, che in quegli anni si chiama Ambrosiana. La partita contro il Genova è una delle ultime del campionato, il primo che si gioca con il cosiddetto Girona all'Italiana, dove le squadre si incontrano tutte in una serie di scontri diretti, ad eliminazione. In testa al campionato quell'anno c'è l'Ambrosiana, con quasi 50 punti, seguita a stretta distanza dal Genova e dalla Juventus, quasi 48 e quasi 45. È una partita decisiva. Se il Genova riesce a battere bene l'Ambrosiana può anche portarle via lo scudetto. E infatti c'è un sacco di gente a seguirla e parecchi stanno sulla tribuna di legno del piccolo stadio. Troppi. Perché ad un certo punto la tribuna comincia a scricchiolare, oscilla parosamente e crolla. Ci sono parecchi feriti, ma la partita è troppo importante e si gioca lo stesso, con gli spettatori praticamente in campo, a seguire il gioco molto da vicino. Cinque minuti alla fine, 3 a 3. L'arbitro fischia un rigore per il Genova, che lo batte, sbaglia e fine partita. L'Ambrosiana rimane in testa. E anche se mancano altre due partite, oramai il campionato è suo. 50 punti. Tutti quei punti che l'hanno fatta vincere, l'Ambrosiana li ha fatti grazie alle 31 reti di quello che in quel campionato si è qualificato come il capocannoniere, un attaccante che si chiama Giuseppe Meazza e che prima di diventare una star del calcio di tutti i tempi era soltanto un ragazzetto magro e così giovane che quando i vecchi dell'Ambrosiana lo avevano visto negli spogliatoi avevano detto ma come? Adesso facciamo giocare anche i Balilla, cioè i ragazzini, negli anni del fascismo. Balilla o non Balilla, le vecchie avevano dovuto accettare il giovane Meazza, perché ad imporlo era stato il loro allenatore, un tipo gentile ma taciturno e deciso, che si chiama Arpad Weiss. E il signor Weiss aveva visto giocare questo ragazzino nel campionato giovanile. Aveva capito che era un genio del pallone e nonostante lo avessero scartato alle selezioni del Milan, lo aveva preso e poi lo aveva fatto giocare nella squadra maggiore in Serie A e aveva visto giusto. Del resto aveva visto giusto tutto il signor Weiss, fino a portare l'Ambrosiana a vincere il primo campionato di Serie A all'italiana e mettersi sulle nuove magliette nero-azzurre e la stella dello scudetto. Ma Arpad Weiss non è soltanto lo scopritore di Giuseppe Meazza e di altri calciatori di quegli anni, come Fulvio Bernardini o Giuseppe Viani, e non è neppure soltanto l'allenatore dell'Ambrosiana. Arpad Weiss è il tecnico più moderno e all'avanguardia che il calcio conosca in quegli anni. Nonostante negli articoli di giornale e anche in certi documenti ufficiali si firmi Weiss con la V, Arpad si chiama Weiss con la W, ma così fa troppo straniero. Del resto parecchie cose in quegli anni sono costrette a cambiarsi nome o adattarlo secondo le veline del partito fascista. Se c'è una cosa che fa troppo straniero bisogna italianizzarla, come i magazzini standard che diventano standa, o come il basket che diventa palacanestro. E se richiama concetti che non sono politicamente corretti, allora si cambia, come l'Inter, che si chiamerebbe internazionale ma fa troppo socialista, e allora, approfittando anche di altre esigenze, ecco che nel 1928 diventa l'Ambrosiana. Arpad Weiss è un gherese, ha giocato come attaccante, alla sinistra, nella sua nazionale, e in varie squadre dei gironi di quelle parti. Poi ha giocato in Sud America e alla fine è arrivato in Italia, prima all'Alessandria, poi al Padova e alla fine all'Inter. Arpad Weiss è un piccolo campione straniero, bravo ma non eccezionale, scattante, molto insidioso nel contropiede, anche se non segna spesso. Però in quegli anni il calcio ungherese è uno dei più popolari, come sarà quello inglese, quello olandese, quello brasiliano negli anni successivi, e Weiss è un ungherese ricercato dalle altre squadre. Poi succede una cosa. Succede che in un contrasto Arpad si fa male, e siccome la medicina di allora non è proprio quella di adesso, non riescono ad aggiustarlo. che fa uno che ha sempre vissuto di calcio e che sa fare solo quello quando non può più giocare. Va in panchina a fare l'allenatore, ed è quello che succede a Weiss. E un ungherese, viene dalla patria del calcio moderno, in quegli anni ben sette allenatori di serie A italiani sono ungheresi, ma non basterebbe se uno non fosse bravo. Invece Arpad è bravo. È un innovatore, uno a cui piace sperimentare, ma allo stesso tempo non è uno che improvvisa, è uno che le studia le sue novità. Gli schemi, per esempio. Nel gioco piuttosto statico di allora, tutti nella propria zona è guai a muoversi, lui studia gli schemi delle altre squadre, soprattutto quelli inglesi, ed elabora lo schema W-M, con i difensori che vanno avanti e indietro a seconda delle esigenze, disegnando appunto una W, tre davanti e due dietro, o una M, il contrario. E poi fa un sacco di cambiamenti nella tattica di gioco, nella strategia, per adattare meglio la squadra alle nuove regole su cui il calcio si sta impostando in quegli anni. È scientifico, Arpad Weiss. Scrive un manuale assieme ad un dirigente dell'Ambrosiana, Aldo Molinari, il gioco del calcio, si chiama, pieno di analisi e riflessioni sulle regole, ma anche di schemi di giocatori disegnati sul campo. Da allenatore, Weiss accompagna l'Inter, e poi l'Ambrosiana, che è lo stesso, dal 1926 al 1934, porto una breve parentesi al Bari, portandola allo scudetto del 1930. Per quanto bravi però, spesso succede che gli allenatori non vadano d'accordo con i proprietari, e succede così anche a Weiss, che dopo quasi dieci anni passati a Milano saluta tutti e passa ad un'altra squadra, il Bologna. Arpad Weiss viene a Bologna nel 1935, arriva con una moglie conosciuta a Milano e due figli piccoli, e trova una squadra che dopo un periodo un po' fiacco si sta riorganizzando nelle mani di un industriale di Reggio Emilia, che si chiama Renato Dallara, quello a cui poi sarà intitolato lo stadio di Bologna. Con la squadra, Arpad fa quello che sa fare, la allena e la dirige secondo tecniche sempre più moderne. Intanto è uno che partecipa agli allenamenti, si mette in tutte i calzoncini e corre con i giocatori. E poi tutto il resto. In un'epoca, in cui lo sport era fatto da generosi campioni che sfruttavano le doti che gli aveva dato la natura, senza quotivarle più di tanto, così eroicamente ma senza metodo, Arpad non solo impone la regolarità degli allenamenti, ma anche la dieta, l'alimentazione giusta, i ritiri e i riposi. Insomma, un calcio scientifico. Poi dispone i giocatori, secondo i propri schemi, con l'idea di un vero e proprio gioco di squadra, dove ognuno faccia la sua parte e in quegli anni non era scontato. A sfortuna, perché gli si rompono un sacco di giocatori, e deve giocarsi il campionato con 16 elementi, che significa una panchina molto corta. Attraversa così tutto il campionato del 35-36 e arriva all'ultima partita con il Modena. 3-0. Il Bologna vince lo Scudetto. Ovviamente è un trionfo per l'allenatore venuto dall'Ungheria, ma non finisce lì. L'anno dopo, altro campionato, quello del 36-37. Il Bologna si piazza in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio e lì resta fino alla fine, secondo Scudetto e consecutivo. Una cosa che fino ad allora era riuscita soltanto alla Juventus. E non finisce ancora lì. In quegli anni non c'era la Champions League, ma una cosa equivalente che si chiama Trofeo dell'Esposizione, con le migliori squadre europee. Arpad ci porta il Bologna e con quello batte una squadra francese, una cecoslovacca e una inglese, il Chelsea. E non era mai accaduto, perché le squadre inglesi allora erano considerate le più forti, praticamente imbattibili. Invece Arpad ce la fa e non solo. Tre partite su tre. Il suo Bologna si porta a casa il Trofeo. Due campionati di fila. Il Trofeo dell'Esposizione. Nelle mani di Arpad Weiss il Bologna è diventato lo squadrone che tremare il mondo fa, come scrivono i giornalisti. E Arpad è diventato uno dei più grandi allenatori del mondo. Amatissimo in città. Adorato dai tifosi e pure dai giornalisti. Rispettato. Perché uno bravo, ma anche riservato e schivo. Come fa notare Matteo Marani nel suo libro, sono pochissime le fotografie dei trionfi delle sue squadre in cui ci sia anche lui. E sempre comunque tre giocatori. Tutto bene per il signor Arpad, che da ungherese è diventato un vero bolognese. Abita con la famiglia in via Valeriani. Sui figli vanno a scuola e stanno prendendo l'accento bolognese. Sua moglie frequenta le amiche. Tutto tranquillo. Tra l'altro, vista la sequenza di successi che ha infilato uno dietro l'altro, è probabile che il commendatore Dallara non voglia farselo scappare quella allenatore così tenace e geniale. Per cui resterà a Bologna e quindi al Bologna per un bel po' di tempo. E invece no. Perché nel frattempo succede una cosa. Abbiamo detto che questa è una brutta storia. Nel 1938 il regime fascista impone le leggi razziali in Italia, sul modello di quelle del nazismo in Germania. Prima esce un manifesto della razza, firmato da un sacco di gente importante del mondo della scienza e della cultura. Poi viene fatto un censimento per schedare a Ariani e non Ariani, e intanto Mussolini promulga le leggi, il re Vittorio Emanuele III le firma, e diventano realtà. Tutti quelli che non sono Ariani si trovano sottoposti ad una serie di limitazioni che crescono con gli anni e che da subito si fanno abbastanza insopportabili. Ebrei, rome sinti, mulatti e persone di colore che vengono dall'Eritrea, dalla Libia, dalla Somalia e dall'Etiopia, che allora sono coloni italiani. Ma soprattutto gli ebrei. Tra le cose che non possono fare, sono tante, cioè insegnare, andare a scuola come gli altri e dirigere imprese in cui lavorino o ci siano degli ariani. Ora, Arpad Weiss è un bolognese che viene dall'Ungheria, ma è anche ebreo. Lui e tutta la sua famiglia. Significa che i suoi figli non possono andare a scuola e significa che lui non può più allenare il Bologna. Che fare? Tra l'altro, non è che questa cosa passi così sotto silenzio. Arpad comincia ad essere attaccato dai giornali in quanto ebreo. La vita si fa sempre più difficile. E visto quello che sta succedendo in Germania, viene da pensare che certe brutte cose prima o poi succederanno anche in Italia. Che fare? Quello che hanno fatto tanti altri ebrei, a cui era diventato impossibile lavorare e anche vivere in Italia, come Rico Fermi, per esempio, che poi diventerà uno dei padri della bomba atomica americana. Andare via. Così fa anche Arpad, che è un allenatore, e va a cercarsi un'altra squadra in un altro paese, dove uno bravo come lui possa lavorare. Potrebbe andare in America, ma è troppo lontano. In Inghilterra, ma non sa la lingua, e il suo è un calcio diverso. Allora va in Francia, a Parigi. Lì però la situazione è confusa, e allora va in Olanda, ad allenare una squadra poco nota, che si chiama Dordrecht. Bene, la squadra è poco nota, la cittadina di Dordrecht è piccola, ma Arpad Weiss è Arpad Weiss, tre scudetti della Champions League di allora. E quando prende in mano una squadra, sa cosa farci. Il Dordrecht era tra le ultime squadre in classifica, e rischiava la retrocessione. Il primo anno che arriva, Arpad la salva vincendo tre partite di fila, e il secondo fa scalare la classifica locale, anzi la brucia. Bene, non sarà più l'idoro di Bologna, ma adesso lo sta diventando in quel pezzettino d'Olanda. Forse lì può costruirsi un futuro, forse con lui il calcio olandese può diventare l'avanguardia del calcio mondiale come succederà più avanti, negli anni settanta. E invece no. Questa è una brutta storia. Succede ancora una cosa. Arrivano i tedeschi. È scoppiata la seconda guerra mondiale e la Germania nazista ha invaso mezza Europa, tra cui l'Olanda. Con l'esercito tedesco arriva il nazismo e anche quelle leggi razziali a cui Arpad aveva cercato di sfuggire con la sua famiglia nel 1938 a Bologna. Anche a Dordrecht, Arpad è costretto a smettere di allenare la squadra di calcio e a stassene a casa, ad aspettare, con sua moglie e due bambini. Poi, alle sette del mattino del 2 agosto 1942, arriva la Gestapo e li arresta tutti in quanto ebrei. Il bel libro di Matteo Marani che racconta questa vicenda si chiama Dallo Scudetto ad Auschwitz ed è lì che Arpad e i suoi finiscono. Sua moglie e i due bambini muoiono subito, selezionati per la fila che va direttamente alla camera gas. Arpad è un atleta, è un uomo forte, resiste ancora un po'. Poi, il 31 gennaio 1944, muore anche lui. Ora, io non lo so se Arpad Weiss è stato il più grande allenatore del mondo, come l'ho chiamato io all'inizio. Non mi intendo di calcio, anzi, non ne so proprio niente. Però, per quello che aveva fatto prima, per come stavano andando le cose, per quello che avrebbe potuto fare poi e anche per quello che gli è successo dopo, ecco, io mi sento di chiamarlo così. Arpad Weiss, il più grande allenatore del mondo. Grazie. 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 Grazie.